Vantaggiato, Furlan, Proietti, Iannarilli, Mammarella, Partipilo, Palumbo, Vantaggiato, Boben, Boben, Proietti, Partipilo, Furlan... Ma siamo in diretta ragazzi? Ah bene, vi potete anche avvisare. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori, siamo in diretta, ma questo è il bello della diretta, ecco, bello mo'. E veniamo dunque alla nostra pagina sportiva, Sport Calcio, Cavese. Contro la corazzata ternana ci si ricava solo una pesante batosta, un altro pomeriggio nero che alla nostra storia davvero tanto costa. Lo 0-5 finale è un risultato che non ammette giustificazioni. Per gli Umbri tanta gloria e prove di fuga, per gli Aquilotti solo limoni. È stato deluso colui che era convinto di non dover più ritornare. La Cavese infatti rigioca le sue gare interne a Castellammare. In difesa Cucurullo è adattato a terzino destro, con De Franco, Marzupio e Semeraro, mentre al centrocampo Esposito e Zedanca sono gli esterni e Migliorini il faro. Il neo acquisto russo è in panchina e bisogno è riproposto tra i pali, mentre in avanti ci sono Senesi, De Rosa e De Paoli. Inizia la gara e al terzo minuto subito l'episodio che ti aspetti. Fallo da rigore di Marzupio e tiro dal dischetto trasformato da Falletti. La gara è piacevole, le due squadre giocano entrambe bene e a viso aperto, ma il tocco del calciatore ospite è sempre quello più da uomo esperto. La Ternana sfiora più volte il raddoppio, specialmente con Partipilo, mentre per la Cavese è di De Rosa l'unico tiro. Nella ripresa si parte con ottimismo, qualcuno pur dentro la mette, ma sono gli ospiti che lo fanno per quattro volte in 26 giri di lancette. I gol di Proietti, Furlan e la doppietta di vantaggiato favoriscono il disprezzo per questo organico bianco-blu e di chi l'ha creato. Per fortuna che da un po' di tempo ci si saluta col gomito e non più con la mano. E chissà quando ci svegliamo noi quest'anno. Molti dicono che non potevi pretendere punti con calciatori come Iannarilli, Mammarella, Laverone, Vantaggiato e Defendi. E allora perdi 5-0, stai zitto senza che ti offendi. Però almeno si poteva evitare la figuraccia. Almeno avevamo salvato la faccia. Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale, ma la Cavese riposerà, ritornando a giocare poi domenica col Foggia, sperando che qualche santo ci aiuterà. Le note salienti dell'incontro perso ieri contro la Ternana, tutte raccolte nel prossimo servizio filmato, curato come sempre dal nostro inviato Andrea Siani. Vediamo. Niente. Lo sapevo già. Purtroppo per motivi tecnici alquanto sconosciuti non possiamo mostrarvi le immagini di Cavese Ternana. Ce ne scusiamo con i nostri fedelissimi telespettatori. Sì, era troppo. Avere le immagini di Cavese Ternana equivaleva ad un terno all'otto. Hanno terno. E sta manafedendo. 0-5. 0-5. Come diceva il grande Oronzo Canà, Furlan, Proietti, Vantaggiato, tutti hanno segnato. Tutti. E pazienza. Comunque prometto ai nostri tifosi un gambioneto tranquillo. Furlan, Partipilo, Proietti, Vantaggiato.